La nostra campagna lo dice molto chiaro, io sono scompo scompe sotto sgombero, è una minaccia seria e probabile al 99%, quindi per questo ci siamo dentro, proviamo insieme a fare una chiacchierata che racconti che così è veramente questo posto, tutti voi sapete che qui dentro ci sono tantissime attività, dalla palestra popolare a tutto il settore di cultura, c'è un'osteria, c'è uno spazio ai bimbi, crediamo che Scoop senza di voi non potesse oggi essere quello che è, voi attraversandolo lo fate crescere e ogni volta date degli spunti positivi a noi per lavorare e migliorarlo. Diciamo che spiegare cosa è Scoop non è facile, perché Scoop è tantissime cose, però c'è una cosa che di sicuro viene in mente a tutti quando ci viene rivolta questa domanda, c'è che Scoop è prima di tutto un luogo aperto, cioè un luogo dove chiunque si può sentire accolto, si può sentire subito a casa, in quale che sia la proposta se ne può discutere insieme e tendenzialmente si fa. È un posto dove crollano i muri, di fatto, come se è crollato il muro che avevano eretto all'entrata di Scoop, la prima volta che l'hanno sgomberato e che noi abbiamo tirato giù, così tutti i giorni qui dentro crollano muri, delle differenze d'età, di religione, non lo so, di etnia, come le volete chiamare, insomma tutte le differenze ci portiamo appresso, tutti i pregiudizi che ci portiamo appresso nella vita quotidiana e nella vita di Roma. Quindi la prima cosa che mi sentivo di ricordare è questa, cioè che Scoop è veramente un luogo attraversato, che è attraversabile da tutti. E quindi tutto questo ci porta poi chiaramente all'assemblea di oggi, perché questo modello che noi rappresentiamo è un modello che in questo periodo non ha grandi consensi a di fuori, è un modello che è proprio incompatibile con le logiche dei tagli allo stato sociale, le logiche dell'austerità. Io credo che al Comune di Roma, ma in generale, ha una politica istituzionale che sempre e sempre meno ha intenzione di investire nei servizi, nel welfare e nel sociale, non faccia piacere se c'è chi dimostra che il welfare senza Stato può esistere, può funzionare e chi mette il dito nella mancanza così grande e così cosciente nella città di Roma. Quindi anche per questo direi che siamo sotto attacco. E poi perché chiaramente sempre in un contesto come quello della crisi, che ormai non ce la facciamo più a ripetere neanche a sentirci dire questa parola, che è diventata una crisi strutturale, esistenziale, cioè ormai è inutile anche restare di ricordarla, perché è quello che ci viviamo tutti i giorni da ormai troppo tempo, però la cosa più importante a di là di tutti i servizi, le attività, dell'osteria, del reddito, di tutto questo discorso, è che qui appunto, come diceva Esther, si fa società. Cioè le cose non è che si raccontano come le vorremmo, come ci piacerebbe che fossero, si prova a farle dei congressi.